La strada per arrivare alla Formula 1, si sa, non è mai semplice. Per arrivare nella massima serie, infatti, non esiste un percorso standard. C'è chi si fa la trafile in Europa, chi passa per l'America, chi tenta l'avventura in Giappone e chi addirittura si copre una scuderia per far correre il figlio. Si strollo, sto parlando con te. Quindi, tirando le somme, non c'è una ricetta standard, ma l'unica certezza è che in Formula 1 ci si arriva se hai due cose. I soldi e o il talento. E su questo punto penso che tutti si possano concordare. Ecco che l'episodio di oggi verterà proprio su un pilota che sicuramente ha potuto contare su un talento incredibile ma che sfortunatamente non ha mai potuto beneficiare di grosse disponibilità economiche. Un pilota che l'ha provato tutte per arrivare in Formula 1 dalla porta principale ma che si è sempre trovato al posto giusto ma nel momento sbagliato e a cui è sempre mancato qualcosa per poter rimanere stabilmente nel mondo della Formula 1. Insomma, il pilota di oggi è Norberto Fontana uno dei tantissimi piloti bruciati da quella Formula 1 anni 90 schizofrenica nella quale mentre correvano bidone come Rosset, Tino e Onoda nel frattempo si mandavano a casa senza troppe manfrine talenti come Ivan Capelli, Stefano Modena o Vincenzo Sospiri. Quindi, setetevi comodi e preparatevi ad ascoltare l'incredibile storia di Norberto Fontana. Prima di iniziare il video però, come al solito, vi invito ad iscrivervi al mio canale in quanto solo il 25% dei miei spettatori sono iscritti. Inoltre, vi invito anche a seguirmi sui miei profili social dove pubblico contenuti redditi. Per il resto, buona visione! Norberto Edgardo Fontana nasce in Argentina nel 1975 ad Arecifes, una cittadina situata a nord-est della capitale Buenos Aires. Fin da piccolo è un grande appassionato di motori, tanto che nel 1983 partecipa al suo primo campionato kart regionale. Norberto purtroppo però non ha la fortuna di essere nato in una famiglia rica, per ben sei anni è costretto a saltare moltissime gare per via della mancanza di soldi. Nonostante la mancanza di denaro però, Norberto riesce comunque ad imporsi a livello nazionale, tanto che nel 1989 riesce a prendere parte alla sua prima stagione completa nel campionato di Buenos Aires, arrivando secondo al primo anno. Nei due anni successivi Norberto dominerà in Argentina, vincendo titoli kart nazionali e regionale. I risultati sono sorprendenti, tanto che a soli 17 anni debutterà nella Formula Renault-Argentina e a fine anno sarà 14esimo. Norberto però, dopo questa buona stagione d'apprendistato, capisce immediatamente che per riuscire a far esaltare il suo talento non può permettersi di rimanere in Argentina, un paese lontano dai riflettori delle grandi scuderie che non avrebbe permesso al pilota argentino di debutare in Formula 1. Norberto così a soli 18 anni si trasferisce in Europa, con pochi soldi ma con una fame di vittoria incredibile. La strategia di Fontana è molto semplice, correre più gare possibile per riuscire a farsi un nome, trovare degli sponsor e restare in Europa. Per fare ciò sceglie di correre il campionato Formula Ford, campionato propedeutico per eccellenza ai tempi, e in maniera molto intelligente si iscrive a ben tre campionati, quello svizzero, quello tedesco e l'europeo, riuscendo a tagliare i costi, dato che molte piste in calendario erano le stesse. L'azzardo di Fontana paga e il 1993 è semplicemente assurdo. Fontana, la sua prima esperienza in Europa, dimostra tutto il suo talento, vincendo all'esordio il campionato svizzero di Formula Ford 1600, vince due gare in Germania e arriva a terzo nel campionato europeo. I risultati sono ottimi, tanto che viene chiamato dal team argentino per correre la Formula Open Lotus Nation Cup, gara di fine stagione nella quale i team erano creati su base nazionale per competere tra loro. Fontana chiuderà la gara undicesimo senza malfigurare. Nel 1994 Norberto fa il salto di categoria appadandone la Formula 3 tedesca. Bisogna ricordarci che all'epoca il campionato di Formula 3 tedesco era considerato il più competitivo del mondo, infatti negli anni precedenti dalla Formula 3 tedesca erano usciti piloti come Wendlinger, Lamy, Christensen e un certo Michael Schumacher. Norberto, dopo qualche difficoltà iniziale, dimostra ancora di essere un pilota molto veloce, vincendo tre gare e con sei podi conquistati si issa alla sua prima stagione al sesto posto. Ah, giusto per informazione, in quel campionato correva gente come Jorg Muller, Ralf Schumacher e Alexander Wurz. Comunque Fontana, dopo questi ottimi risultati, non ha intenzione di fermarsi e il Gran Premio di Zandvoort stupisce ancora tutti conquistando un ottimo quinto posto all'esordio. I risultati ottenuti sono eccellenti, tanto che a fine 1994 Fontana, a soli 19 anni, viene contattato da Sauber per fare un test a Barcellona con la Formula 1. Il test va molto bene, tanto che Mercedes, allora motorista della Sauber, propone a Fontana di correre nel DTM con la squadra ufficiale per il 1995. Norberto, tuttavia, vuole assolutamente rimanere nei campionati Formula e decide per il 1995 di restare in Formula 3 tedesca. Nonostante il rifiuto, però, viene comunque promosso a pilota di riserva nel team Sauber Formula 1, sempre per la stagione 95. La stagione 95 è semplicemente fenomenale, è l'apice indiscutibile della carriera di Norberto. In Formula 3, infatti, nonostante la presenza in squadra di Jarno Trulli e di Ralf Schumacher e Wurz alla concorrenza col team Opel, Fontana domina in lungo e largo per tutta la stagione, conquista 10 pole position, 10 vittorie e 13 podi su 16 gare corse. A fine stagione, i punti sul secondo classificato, Ralf Schumacher, saranno ben 85. Ma non finisce qui. Infatti, dopo aver conquistato un buon ottavo posto a Monaco, a Zandvoort vince partendo dalla pole position. E per non farsi mancare nulla, partecipa ad una gara di Porsche Super Cup, arrivando quinto. Fontana è semplicemente fuori standard, ovunque va vince, tanto che addirittura a fine 95 Sauber inizia ad intovolare una trattativa col pilota argentino, per farlo debuttare nel 1996 in Formula 1. Sembra andare tutto bene, quando incredibilmente avviene un fatto che segnerà per sempre la carriera di Fontana. Circuito di Macau, 22 novembre 1995. Norberto Fontana è sicuramente il favorito. Ha dominato in lungo e largo per tutta la stagione, ma Macau è una gara speciale. Si corre in un circuito cittadino difficilissimo e proprio come Monaco è una gara che viene tenuta ad occhio dalle grandi scuderie e dagli sponsor. Insomma, vincere a Macau o comunque fare una buona gara può veramente svoltarti la carriera. E questo Fontana lo sa benissimo, non potendo disporre ancora di sponsor importanti. In prova però Fontana non è brillante come al solito, si becca più di un secondo dai primi e si piazza al quinto posto in qualifica. Prima della gara però Norberto non è in fiducia, per qualche motivo non apprezza i circuiti cittadini con poco grip. Ed infatti al primo giro Fontana dopo aver conquistato la quarta posizione alla seconda curva va a sbattere contro il muro causando un enorme incidente. Lo schianto è tremendo e nell'incidente Norberto si frattura una vertebra cervicale, la gara viene interrotta e il pilota viene subito portato all'ospedale di Macau. Tuttavia in questa situazione critica Sauber interverrà, invitando a Fontana di operarsi in Cina. Il team suizio infatti convincerà Fontana ad operarsi da uno specialista in una clinica privata in Svizzera. L'operazione tuttavia nonostante il successo avrà diverse complicazioni, i danni erano stati molti e il pilota ne risentirà fisicamente e psicologicamente per molti anni. Comunque dopo il brutto incidente e l'esito dell'operazione Sauber scaricherà in tronco Fontana che in poco più di una settimana era passato dall'essere un fenomeno che tutti desideravano a un lebroso senza talento. Fontana in questo periodo difficilissimo perverrà a trovare un accordo in Formula 3000 ma tutti i team gli chiuderanno le porte in faccia. Norberto allora si trova costretto a ripiegare nel campionato giapponese di Formula 3000 dovendosi accontentare di guidare una vettura adattata e poco competitiva. Norberto tuttavia nonostante l'incidente e la vettura poco competitiva riesce comunque a distinguersi in Giappone vincendo una gara e con tre podi conquistati si issa al quinto posto battendo il compagno di squadra Pedro della Rosa. A fine stagione riesce anche a partecipare ad una gara di Formula 3000 all'Estoril ma in qualifica non va oltre il diciannovesimo posto e in gara è costretto a ritiro. Per il 1997 comunque visti i buoni risultati in Giappone viene ricontattato dalla Sauber per ricoprire il ruolo di pilota di riserva e passa all'Eman Team in Giappone guidando una Reinhardt nuova di zecca. Le premese sono ottime ovviamente il karma lo punisce di nuovo in quanto nel 1997 il teo migliore lo costruisce la Lola e Fontana si ritrova a rincorrere gli avversari. Le prime tre gare della stagione infatti sono molto difficili con Fontana che riesce a conquistare solo un sesto posto. Tuttavia è in questo momento che finalmente il destino che negli ultimi due anni lo aveva bastonato senza pietà mette finalmente a disposizione un'occasione a Fontana. Durante dei test infatti Gianni Morbiglielli pilota della Sauber si infortunerà ad un braccio non potendo disputare la gara in Francia ed ecco che Fontana ha l'occasione di debuttare finalmente in Formula 1 proprio al Gran Premio di Francia nel 1997. Sfortunatamente però il primo impatto con la Formula 1 non è dei migliori. Fontana non riesce mai a trovare il feeling nelle prove nonostante abbia a disposizione un'ottima vettura. Infatti nel 1997 la Sauber aveva progettato una vettura molto veloce che poteva contare su un discreto motore Ferrari. Non la più veloce sicuramente ma una macchina con la quale lottare per i punti in quasi ogni gara. Comunque come dicevo il primo approccio al weekend non è dei migliori per Norberto che in qualifica si becca un secondo e mezzo dal copano di squadra e si qualifica ventesimo davanti alle sole Minardi. In gara poi le cose non migliorano, rimane nelle ultime posizioni per quasi tutta la gara, riesce anche a rompere l'alettone frontale e dopo averlo fatto cambiare dopo due giri si insabbia al quarantesimo giro mentre era ultimo. Dopo questa pessima prestazione da parte di Norberto la Sauber vorrebbe appiedarlo. Provano a chiamare Brandol ma il pilota inglese è impegnato nel campionato Endurance e fa il segno dell'ombrello alla squadra svizzera che è così costretta a tenersi Fontana. In Gran Bretagna Fontana sembra prendere più confidenza con la vettura ma in qualifica soffre di alcuni problemi alla vettura che non gli fanno segnare nemmeno un tempo utile. In gara comunque parte ultimo ma non compie errori e conclude la gara al nono e penultimo posto. A Lockenheim Norberto continua ad avere difficoltà ad adattarsi alla vettura ma nonostante ciò dopo essersi preso il solito secondo in qualifica da Herbert in gara non va affatto male resta per tutta la gara a giocarsela a metà gruppo e conclude la sua seconda gara di fila in nona posizione. Tuttavia dopo la gara in Germania Morbidelli si è finalmente ripreso dall'infortuno il pilota argentino viene declassato a pilota di riserva e torna in Giappone a finire il campionato che sfortunatamente però andrà al suo ex compagno di squadra Pedro della Rosa con Fontana che si dovrà accontentare di un altro terzo posto in campionato con una vittoria a tre poli. Sembra essere definitivamente finita l'esperienza di Fontana in Formula 1 quando incredibilmente Morbidelli si infortuna in Giappone e Fontana viene di nuovo richiamato per correre l'ultima gara a cherez della frontera in Formula 1. Come al solito Fontana non si trova a suo agio con la vettura e questa volta giusto per non farsi mancare nulla riesce pure a scatenare una polemica in quanto Fontana rallenterà Villeneuve in gara durante un suo doppiaggio e il pilota canadese di tutta risposta lo accuserà pubblicamente di averlo fatto apposta in quanto motorizzato Ferrari la FIA investigherà ma non verrà trovata nessuna prova e Fontana non verrà squalificato anche se nel 2006 lo stesso pilota dichiarerà alla stampa argentina di aver ricevuto l'ordine di rallentare Villeneuve da Jean Tod ma Peter Saber di tutta risposta smentirà con forza l'affermazione di Fontana la gara comunque per Fontana oltre a questo episodio sarà senza infame e senza lode con il pilota argentino che partirà diciottesimo e chiuderà la gara in quattordicesima posizione finita questa breve e non troppo esaltante esperienza la carriera di Fontana in Formula 1 sembra ormai finita ed invece per il 1998 il pilota argentino riesce a trovare un accordo con T-Rail per correre un'intera stagione riesce a trovare 4 milioni di dollari per comprare stessi sedile sembra tutto fatto quando all'ultimo secondo l'accordo salta in quanto un certo Riccardo Rosset arriva con la valigia e sborsa 9 milioni alla tir Fontana così è costretto a torrare in Giappone dove nel 1998 arriverà quarto in Formula 3000 giapponese vincendo una gara e nel 1999 tenterà un inutile assalto alla Formula 3000 internazionale all'avventura si rivelerà un disastro e con 4 punti conquistati capirà che in Europa non c'è più spazio per lui nel 2000 tenta un ultimo colpo ad effetto nel campionato carta americano con il team della penna con telaio Lola ma quell'anno le Reinhard sono troppo superiori e Fontana passa tutto il campionato relegato nelle retrovie e con soli due punti conquistati deciderà che ne ha avuto abbastanza nel 2001 se ne torna in Argentina ed è proprio dal 2001 che Norberto correrà regolarmente il turismo Carrera vincendo anche svariati titoli negli ultimi 20 anni adesso Norberto ha 47 anni e continua a divertirsi in Argentina avendo anche fondato il suo team si concluderà così la storia di Norberto Fontana in Formula 1 uno dei talenti più limpidi eppure che nonostante non sia nato in una famiglia ricca è riuscito a fare del pilota la sua professione per tutta la vita e questo sicuramente non è da sottovalutare un pilota di talento funestato dalla sfortuna e che tuttavia quando gli ci sono presentate quelle poche occasioni non è riuscito a sfruttarle al meglio nonostante le ottime premesse insomma l'emblema del vorrei ma non posso e voi cosa ne pensate? Norberto meritava la Formula 1 o è il classico talento bruciato? fatemelo sapere nei commenti la Formula One Legends è tutto grazie della visione